questa prima batteria con Cinterio che va davanti e una bella bellissima gara la sua attenzione sulla curva Cinterio viene superato da Annibale San Giorgi quando al passaggio suonerà la campana San Giorgi poi Cinterio e dalla porta dove Cinterio con il portacolo di Ternal che si è messo in seconda posizione poi Bisani in terza non va a far segnare il primo tempo di riferimento della categoria 2 sole batterie per loro arriva Cinterio, tempo 50 e 39 53, 9 la partenza è valida, gran frequenza per Cumpone, Pietri Gonzales di nome di fatto, gran frequenza, veloce sta pure Cristiano Cumpone con Mattia Sio in seconda posizione e poi Stocco in terza e Vignazza in quarta con la campana che suona per lui Mattia Di Colini è a distendersi tantissimo Cristiano Cumpone e adesso risaluto Cristiano Vignazza in seconda posizione 50 e 39 il tempo della batteria precedente di Cinterio vediamo il tempo di questa Vignazza Anzino Cumpone, tempo 49, 08 gran tempo 49, 08 Grazie